Noi pensavamo di essere al centro della Terra, come esseri umani, come specie umana, e che la Terra fosse al centro dell'universo. È arrivato Copernico e ci ha spiegato che la Terra non era più al centro dell'universo, come avevamo pensato finora, ma al centro c'era il Sole. Ferita narcisistica per l'essere umano, ma allora non siamo così centrali come pensavamo di essere. Come ci siamo consolati? Ci siamo consolati dicendo che siamo comunque una specie diversa. Non siamo come gli animali, non siamo come le piante, siamo veramente differenti. È arrivato Darwin e ci ha spiegato che in realtà anche noi abbiamo un ceppo comune con alcune scimmie. E quindi sostanzialmente non siamo una specie così diversa, perché anche noi siamo animali. Altra rivoluzione interiore, altra ferita narcisistica. Come sentirci di nuovo speciali anche rispetto agli animali? abbiamo pensato di essere molto razionali e di essere gli unici che riuscivano veramente a ragionare e ad avere sotto controllo la nostra mente. A questo punto è arrivato Freud e ci ha detto che esiste l'inconscio. ci ha dimostrato più volte nell'arco appunto degli ultimi anni e del secolo scorso che noi prendiamo delle decisioni che non sono razionali, abbiamo dei comportamenti impulsivi che non riusciamo a controllare e che quindi non siamo così razionali come pensavamo di essere. Come ci siamo consolati di nuovo da questa perdita incredibile? pensando di essere gli unici agenti nel mondo in maniera ragionevole. Quindi gli unici che riuscivano veramente ad agire e a interloquire e a cambiare i processi in maniera ragionevole. E' arrivato Alan Turing. Alan Turing ha inventato il computer, come sappiamo, o perlomeno ha gettato le basi di questa che è l'era che noi stiamo vivendo, l'era della quarta rivoluzione, che è la rivoluzione dell'informatica e dell'informazione. Noi siamo diventati, al pari di animali, piante e oggetti connessi, degli inforg, cioè organismi che consumano e producono informazioni. Se, tuttavia, un extraterrestre oggi dovesse arrivare e cercare di leggere e cercare di capire, quindi, quali sono gli esseri maggiormente agenti sulla Terra, quindi i dominanti con cui interloquire, e cercasse di farlo attraverso Internet, penserebbe che sono gli oggetti connessi, che nel 2020 saranno 80 miliardi, mentre noi, umani, saremo soltanto 7 miliardi. Quindi gli inforg che maggiormente agiscono attraverso Internet nell'universo sono gli oggetti, siamo totalmente smarriti, siamo in una dimensione in cui siamo spiazzati, ci sentiamo caduti nella tana di biancomiglio e dobbiamo riconsiderare la geografia, la storia, lo spazio e il tempo. I millennials, ma ancora di più quelli che stanno, diciamo, crescendo dopo, che leggono tutto sul digitale, che già hanno questa dimensione geografica completamente diversa, una percezione dello spazio completamente diversa da noi, quale percezione avranno del tempo? Avranno la percezione, e l'hanno già, di un tempo presente. Siamo nell'iperstoria. Quello che vedete qui è il professor Luciano Floridi, filosofo e direttore dell'Internet Institute di Oxford, che è il teorico della quarta rivoluzione della storia dell'uomo e colui che ha creato anche il termine iperstoria. Per fare un esempio di come sta cambiando veramente la nostra concezione della storia in base ai dati, andiamo a vedere come è stato finora. Noi abbiamo avuto il primo periodo della storia dell'uomo di cui non sappiamo assolutamente nulla, ed è la preistoria. Perché non sappiamo nulla? Perché nessun dato veniva registrato. Quindi non c'era progresso, non c'era linearità, non si poteva imparare dalle esperienze e dagli errori delle generazioni passate, perché non rimanevano scritte. E non si poteva costruire o immaginare un futuro sulla base dei dati del passato. In tutta la storia dell'uomo, fino all'invenzione del computer, l'uomo ha, a un certo punto, prodotto, invece, 12 exabyte di dati. Da quando? Da quando ha cominciato a lasciare, diciamo, traccia, da quando ha cominciato con i primi giroglifici, i primi segni dei primitivi sulle caverne, i primi dati a cui rifarsi ed andare a consultare per partire poi da quel punto a costruire. il futuro. Quindi, 12 exabyte fino all'invenzione del computer, 180 exabyte dall'invenzione del computer al 2006. Se noi consideriamo che la storia parte da quando abbiamo iniziato a produrre i dati, pensate che sproporzione. Cioè, 12 exabyte fino all'invenzione del computer e con l'invenzione V aumentano a 180 fino al 2006. Dal 2006 al 2011, guardo la mano perché mi sono segnati per non sbagliare, perché sono arrivati a 1600 exabyte. Voi pensate, a livello di storia, quindi, quanto la storia, in qualche modo, se dovessimo darle una dimensione spaziale, si è allargata. Cioè, noi abbiamo infiniti dati dal 2006 al 2011 che superano di migliaia quelli di tutta la storia passata. Andiamo avanti. Siamo entrati nell'era dello zettabyte. Quindi abbiamo avuto un salto, che è quello che dicono, appunto, esponenziale di dati. E noi, fino al 2015, che è l'ultima, diciamo così, soglia studiata dall'Istituto di Berkeley che ha fatto questa analisi, abbiamo prodotto 8 zettabyte di dati. Questo cosa significa? L'iperstoria diventa questa dimensione in cui quotidianamente vengono prodotti nel mondo, cioè nell'infosfera, cioè nel nuovo ambiente e spazio geografico di tutti gli oggetti connessi che producono e consumano informazioni, cioè gli inforg. Noi, ogni giorno, nell'infosfera, produciamo una mole di dati che è otto volte tutte le biblioteche americane, per fare un esempio che hanno fatto gli studiosi di Berkeley. Quindi il presente si allarga. Il rischio qual è? Abbiamo pensato sempre all'uomo in termini evolutivi da quando è cominciata la storia, quindi insomma il primo è quello che sulla fine della preistoria e poi diciamo andiamo ad evolvere e pensavamo fosse evolutivo. In realtà quello che può accadere è esattamente l'inverso secondo un altro filosofo. Un filosofo che si chiama Han, che è un filosofo sudcoreano che vive e insegna a Berlino e che ha teorizzato per l'appunto un'involuzione che va avanti con le nuove generazioni che sostanzialmente vivono un eterno presente. Anche noi, in qualche modo, viviamo un eterno presente. Cioè, per fare un esempio molto semplice, quando noi scriviamo un testo, lo scriviamo, quando lo correggiamo, prima avevamo la brutta copia, no? Quando si scriveva a mano oppure a macchina e poi si conservava una copia e poi si riscriveva finché non veniva la bella copia. Adesso, ogni volta che noi facciamo save sui cambiamenti, quello che c'era prima viene cancellato. Questo vi dà un minimo esempio della cultura in cui siamo entrati ed è una cultura di immissione in cui noi processiamo questa mole di dati che già ci sembrano troppi, specialmente a noi giornalisti, per essere, in qualche modo, ordinati, ponderati. E questi dati, a un certo punto, diventano un eterno presente che è il presente dell'azione. Quindi, avere sempre come dimensione solo quella del presente e solo il tempo precisissimo che è il tempo dell'azione fa in qualche modo scomparire il tempo in cui non c'era l'azione, il tempo dell'ozio. Ci insegnano però gli antichi greci che questa civiltà occidentale è nata sull'ozio. Cioè, i grandi pensatori erano quelli che oziavano e oziando meditavano e processavano nella loro mente i dati e in qualche modo costruivano le filosofie e le civiltà del futuro. Ora, il tempo che intercorre tra due azioni è diventato un tempo vuoto. Han dice questo tempo è diventato da tempo dell'ozio a tempo libero che va riempito con un videogame, con un acquisto, con qualcosa che ci faccia divertire, che ci distragga dalla non-azione. Quindi questo tempo preciso che è il tempo dell'iperstoria allarga a dismisura il presente e diventa il tempo dell'azione. Nel tempo eternamente presente dell'azione, passato e presente, e questo lo vediamo semplicemente anche cercando i dati nei motori di ricerca, convivono al punto tale che nel futuro probabilmente le persone non sapranno più quando una cosa appartiene, non la sapranno più datare, cioè quando appartiene al passato e quando appartiene al presente. pensate ora a tutto il sapere, a tutte le biblioteche, a tutti gli archivi, a tutto ciò che alcuni studiosi ancora vanno a studiare, a ricercare ed ad analizzare, ma che la maggior parte dei giovani, delle persone del futuro che già nasceranno in un'era digitale guarderanno più o meno come noi guardiamo il Colosseo e non li apriranno, cioè non estrarranno dati e senso da ciò che non è digitalizzato. Tuttora, siccome non ci sono troppi fondi, anche in Italia esistono parti di archivi totalmente inesplorati, parti di archivi totalmente ignorati. quindi brani e parti di storia raccontati e tramandati soltanto dai vincitori, potrebbero essere anche fake news, per essere sull'attualità, che hanno costruito la storia, ma quei dati veri, reali, quelli di verifica, noi neanche li riusciamo ad aprire perché costerebbe troppo impegnare delle persone, dei ricercatori che si fermano lì e si mettono a studiare tutti quei volumi senza sapere neanche in parte cosa c'è dentro. Ci vorrebbe Archimede Pitagorico. Archimede Pitagorico, per anni e anni diciamo di storie di Topolino, ha cercato di inventare la macchina del tempo in cui almeno si rimette in ordine quella situazione vissuta da Nicole Kidman nel film The Others. Ma ci sembrava fantascienza e invece no. È arrivato un altro scienziato, un altro studioso e anche un artista che ha inventato uno scanner che si chiama Replica. Questo scanner si trova all'EPFL di Lausanna, al Politecnico di Lausanna. Lui si chiama Frederick Kaplan. Frederick Kaplan ha avuto un'idea, diciamo un sasso nel mare dell'iperstoria, per rimettere il tempo in internet. Lui ha preso tutta la biblioteca di Venezia, l'archivio di Venezia, tutto l'archivio di immagini di tutti i quadri veneziani e li ha passati a questo scanner velocissimo, quindi mille anni di storia certificata. La biblioteca di Venezia, gestita dalla Fondazione Cini, è quella che ha i dati più completi di tutte le transazioni avvenute a Venezia, chi abitava dove, chi faceva cosa, qualsiasi cosa che fosse catastale, anagrafica, tutto segnato per mille anni. Quindi il più completo archivio, in questo senso, al mondo, o quantomeno della società occidentale. mettendoli in questo scanner, che presto sarà anche capace di estrarre senso dai libri chiusi, è riuscito a creare dei pattern che servono a individuare lo stesso elemento in un tempo e in uno spazio diversi. costruire quindi un immenso motore di ricerca della storia di Venezia, che, per fare un esempio molto semplice da comprendere, potrebbe consentire, oltre che ovviamente agli studiosi, di accedere e studiare tutti i testi, cosa che abbiamo detto economicamente e non abbiamo la possibilità di fare, o pochissimi ce l'hanno, di creare una sorta di Google Map, per restare nello spazio-tempo, Google Map del passato. Cioè io mi trovo a Piazza San Marco e posso andare a vedere com'era la piazza 400 anni fa, se ho abbastanza dati. Chi abitava lì, dove adesso c'è un negozio di abbigliamento di lusso? Quale bottega c'era in quella che oggi è diventata la caffetteria più nota della piazza? Ma posso anche fare un'operazione del genere tra le persone? Posso fare il Tinder di Casanova? Con chi ha avuto rapporti Casanova? Come si è trovato con le sue fidanzate? Con chi erano sposati le sue amanti? Con chi erano sposate? I giovanissimi saranno come il pesce che non sa cosa è l'acqua, perché saranno già nati nell'era digitale. Invece noi possiamo vedere e possiamo cercare, come ha fatto Frederick Kaplan, di trovare dei modelli e dei modi e delle tecnologie per rimettere il tempo in internet, per far sì che i futuri abitanti della Terra, i nuovi inforg che saranno umani e che saranno in strettissima minoranza tra oggetti che parleranno tra loro sempre più senza l'intermediazione dell'uomo, possano avere l'idea della linearità e del tempo che ha costruito la nostra civiltà. Grazie.